Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria? Vincitore Becchi. Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come è andata? Sono contento di aver vinto per il miglior Becchi, con il pelo lungo e le corna belle. Una bella manifestazione quella di oggi? Sì, è stata una bella manifestazione. Perché è importante valorizzare questi animali secondo lei? La soddisfazione dell'animale. Che cosa le dà lei questo animale? Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? E' che è una bella bestia. Però dà anche parecchio da fare? Ah beh sì, dà da fare perché si deve tenere dentro, perché diventano cattivi, diventano cattivi i Becchi. Sacrifici e soddisfazioni? Sì. Lei è felice di aver partecipato alla manifestazione di quest'anno, ha potuto così incontrare altri allevatori? Sì, sono contento di aver partecipato alla manifestazione della bestia. Gli altri capi in gara come erano secondo lei? Ce n'erano dentro tanti, ma erano abbastanza piccoli. Non erano bestie grandi, sono diventati un po' piccoli. Sono diventati. Com'è la manifestazione? E' piccola però è caratteristica, è bella, è sempre bella, perché la capra è il migliore animale che c'è dopo la donna. Grazie. Grazie. Grazie.